Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito ancora una delle città del centro Italia sconvolte da un disastroso terremoto che alle 3.36 della notte ha sconvolto l'Italia centrale, colpendo ben tre regioni, Lazio, Ungia e Marche. La nuova scossa si è registrata nella città di Arquata del Tonto ed è stata del quarto grado della scala Richtera. Intanto il numero di morti continua a salire. Secondo i dati ufficiali sono 63, nell'ordine 35 ad Amatrice, 11 ad Accumoli, 17 invece le vittime che sono state portate nell'ospedale di Ascoli vicino anche quelle decedute sia ad Arquata che a Pescara del Tronto. Intanto solidarietà arriva dall'Europa e da altre nazioni al Premier Renzi in merito a quanto è avvenuto nello spaventoso sisma della notte. Anche i principali giornali internazionali hanno dato ampio spazio alla vicenda con Breaking News, dalla CNN al The Guardian, alla BBC passando per altri ed importanti autorevoli giornali. Intanto la protezione civile sta allestendo due tendopoli che verranno completate nel corso di queste ore.